Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi mi segue già da un po' sa che ho portato sin dall'inizio la questione dei pescatori rapiti in Libia e giunge proprio la notizia da pochissimi minuti che Conte si è avvolato a Benghazi insieme a Di Maio per concludere o comunque proseguire le trattative per la liberazione dei pescatori che sono ormai detenuti in un carcere libico per la punta Benghazi da più di 100 giorni. Chiaramente in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi si è sentito tantissime voci a parlare della liberazione immediata necessaria di questi pescatori senza però minimamente comprendere la delicatezza della questione perché la Libia indubbiamente è un protagonista internazionale piuttosto tosto, non tanto ostile, però delicato sicuramente, con quelle trattative si devono affinare in maniera sempre molto minuziosa stando attenti a non provocare troppo le sue parti istituzionali, i suoi leader, per appunto Haftar e il generale. E di conseguenza stiamo ad aspettare, attendiamo eventuali evoluzioni del caso indubbiamente questo è un passo avanti importantissimo per la liberazione di queste persone e speriamo che il tutto si concluda per il meglio. Nel frattempo speriamo di non vedere tantissimi altri allenatori della nazionale commentare sui social l'incapacità del Ministero degli Esteri perché sono situazioni queste veramente delicate e serve solo pazienza.